Kate, la duchessa di Cambridge ha un sosia nel suo figlio più piccolo poiché è stato rivelato che la madre di tre figli scherza spesso sul fatto che il principe Lewis è l'unico figlio che le somiglia. Affermano i rapporti, i fan reali hanno discusso di quanto i figli reali prendano dal duca e dalla duchessa di Cambridge. La scorsa settimana, il principe George ha festeggiato il suo compleanno e le nuove fotografie rilasciate da Kate mostrano quanto il futuro re prenderà dopo il principe William una tradizione annuale per la madre reale di tre figli rilasciare una fotografia. Personale di famiglia dei suoi figli il giorno del loro compleanno. Queste fotografie offrono al pubblico britannico un'idea della vita familiare dei Cambridge. La recente foto del compleanno di George che sorride al mare ha fatto notare ai fan quanto il bambino di nove anni assomiglia al principe William. È stato anche osservato che la principessa Charlotte è un'immagine speculare di suo padre, poiché anche il duca ha confuso le immagini di se stesso da bambino con la principessa, William ha detto sono io. Mentre guarda una fotografia d'infanzia di se stesso a un evento reale. Perché assomiglia proprio a Charlotte. È incredibile. Kate ha convenuto che la foto assomiglia molto a Charlotte. Un caro amico ha detto che anche Kate ha scherzato sul fatto che lei e il principe Lewis sono gli strani in famiglia. La fonte interna ha dichiarato, tutti commentano sempre come Lewis sia l'immagine sputata di Kate. Lo adora e pensa che sia molto dolce e scherza spesso dicendo che è l'unico dei suoi figli che le assomiglia davvero. Lewis ha rubato la scena il mese scorso al Queen's Platinum Giubili quando è stato visto fare smorfie durante la celebrazione. Una fonte reale ha detto alla rivista People, è una scimmia sfacciata, un tipico terzo figlio. È bello che il mondo intero lo veda divertirsi. La fonte ha anche rivelato qualcosa sulle personalità degli altri bambini di Cambridge. Hanno continuato, George è più riservato e Charlotte è più estroversa. Forse è perché è l'erede e un giorno potrebbe diventare il re. Forse è l'erede e un giorno potrebbe diventare il re. Forse è l'erede e un giorno potrebbe diventare il re. Forse è l'erede e un giorno potrebbe diventare il re.